ciao a tutti ciao carissimi benvenuti in diretta sempre con grande piacere adesso abbiamo un attimino ridotte per cui per qualche settimana facciamo una sola diretta alla settimana andiamo ad affrontare come sapete sempre gli argomenti di crowdfunding crowdfunding che sta vivendo anche nelle ultime ore un momento sempre molto importante di grande crescita soprattutto al momento che tra quegli strumenti che sono individuati come validi per una più che auspicabile ripartenza dell'economia il argomento di oggi sono le peggiori campagne della storia del crowdfunding quindi non è che faremo i nomi o forse si forse andiamo delicati e non lo facciamo per non offendere nessuno ma ci sono continuano ad esserci tante campagne di crowdfunding che purtroppo non raggiungono i risultati sperati ma anzi magari mettono anche un po in cattiva luce un progetto che invece era bellissimo dei progettisti che potevano sicuramente agire per il meglio per cui adesso diamo un po di tempo alle notifiche in maniera che diventiamo un attimino più numerosi vedo che già qualcuno si sta aggiungendo per cui ti ricordo come sempre le nostre regole dell'amicizia in queste dirette sono contraccambiare questo tempo con un simpatico mi piace un altrettanto simpatico ancora più efficace condividi mentre c'è una mosca che migliora intorno non so se qualcuno di voi la sta vedendo perché è piccola ma da stamattina che è in per terra io le mosche non le ammazzo sulle zanzare non mi faccio problemi no perché pungono le mosche invece le sopportiamo danno soltanto un po fastidio per cui c'è questa mosca che vedrete parteciperà alla diretta perché è tutto il giorno che qua è in smart working da casa mia allora angelo gindro eccolo qua buonasera ciao angelo benvenuto vediamo che siamo in nove collegati è però non ho visto ancora segni di vita da parte di nessuno fatevi vivi salutateci salutatevi diteci chi siete soprattutto raccontatemi brevemente il vostro progetto ditemi se avete dei problemi nella raccolta fondi se state facendo già una campagna se state pensando di progettare una campagna quali sono i vostri dubbi dubbi in merito a tanti aspetti che compongono i tanti elementi che compongono questo lavoro olistico che la progettazione il lancio di una campagna di crowdfunding per cui magari qualcuno di voi ha delle questioni da chiedermi dal punto di vista fiscale dal punto di vista legale ma anche cose ancora più strutturali se vogliamo cioè che non possono essere risolte da un commercianista un avvocato ma ma soltanto da voi mentre fate la campagna magari con qualche consiglio mio che è il budget della campagna che sono le fasi in cui siete in cui magari pensate di essere magari pensate di essere una fase invece siete in un altro oppure avete lavorato senza completare una fase che magari molto importante di pre campagna di progettazione di analisi ci sono tante cose che compongono una campagna di crowdfunding noi nel nostro corso le esploriamo tutte chi ciao gero benvenuto che chi mi è che mi sta seguendo da un po di mesi o qualcuno che da anni vede che ogni volta abbiamo da scoprire qualcosa in più ogni volta abbiamo da focalizzarci su un aspetto che magari inizialmente non c'era neanche venuto in mente oppure che avevamo visto ma non avevamo approfondito tante volte e nel crowdfunding succede praticamente sempre sono poi le sfumature che determinano il successo di una campagna o meglio ci sono degli elementi base che devono per forza esserci senza di questi non si riesce a fare una campagna crowdfunding di successo ma anche con questi elementi diciamo ma anche con questi elementi il non non tutti riescono arrivare al risultato proprio perché si sono dimenticati di delle piccole sfumature faccio una cosa un po poco elegante mi dice luigi che non è partito il chat bot per cui se volete condividere o se volete mandare un messaggio ai vostri amici che sapete che volevano seguire questa diretta fatelo pure perché va va più che bene così diventiamo un attimino di più angelo gindro noi faremo un equity ma vorremmo dare anche dei reward quando sarebbe meglio ma allora angelo puoi farlo contestualmente io una cosa di cui ho parlato spesso allora fai conto che l'equity ovviamente è una procedura un po più elaborata del reward intanto devi avere una società o devi aver costituito o devi essere in costituzione di una società per farlo essendo poi questa società un entità che va in qualche modo a sollecitare al pubblico risparmio c'è bisogno di per interposta piattaforma avere l'autorizzazione console per cui andare a caricare su una piattaforma ciò non toglie che in concertazione con la piattaforma ovviamente potresti essere uno dei primi che fa una cosa che mi avviso una gran buona idea insieme alle quote per cui all'investimento in quel momento lì momento tu fai equity stai andando a chiedere un investimento alle persone a quel punto lì gli vai tranquillamente anche a dare un reward come regalo perché perché può essere così importante ritengo che possa essere molto importante perché il valore del reward non è soltanto l'oggetto in sé ma anche in qualche modo un appartenenza quasi un fetticcio del fatto che tu sei una delle persone che ha reso possibile quella campagna per cui non sottovaluterei mai in queste dinamiche partecipative come ad esempio il crowdfunding non non mi dimenticherei mai di mettere anche una dinamica come quella di un appartenenza per cui sicuramente lo devi concertare con la piattaforma per capire la modalità più che altro potrebbe essere qualche difficoltà tecnica in più a meno che se tu volessi automatizzare questo processo se tu invece semplicemente lo invierai tu successivamente non vedo cosa potrebbe obiettare la piattaforma francesco calandro presente con qualche domanda da porre bene leonardo amico ciao leonardo come stai allora aspetto le vostre domande poi vi dico due parole su quelle che sono le campagne le peggiori campagne della storia del crowdfunding e perché sono peggiori vediamo se arriva qualche domanda francesco aveva delle domande però non sono sono arrivati allora le peggiori campagne le peggiori campagne di crowdfunding sono senza fare i nomi ovviamente sono intanto al primo posto nella primo al primo livello di campagne peggiori ci metto tutte quelle campagne che non che non hanno fatto le cose secondo i tempi nel senso che si sono lanciate immediatamente a fare una campagna di crowdfunding senza un lavoro precedente non dico pre campagna che già sarebbe ma dico anche semplicemente andare a rendersi conto della loro effettiva reputazione online a rendersi conto dei delle reali aspettative che potevano avere per quanto riguarda il budget per cui senza analizzare senza guardare niente senza conoscere il crowdfunding ci sono persone che purtroppo sbagliando diciamo seguendo una consuetudine anche abbastanza purtroppo italiana vedono il crowdfunding pensano che siano soldi gratis e senza sapere neanche come si pronuncia vanno a lanciare una campagna di crowdfunding si stampano come le mosche su parabrezza ovviamente per tutta una serie di ragioni alcune delle quali anche superfluo andare a spiegare come fai ad utilizzare uno strumento che non conosci come fai a pensare che puoi magari delegare a qualcuno completamente non è possibile c'è una parte di awareness di conoscenza che devi avere tu sul crowdfunding questa è un po la mia crociata ai tantissimi e sono tantissimi che mi chiedono ti pago subito se tu il tuo team mi seguite la campagna dei crowdfunding io non ne so niente non ho tempo non si può fare così noi rifiutiamo sempre questa questa procedura perché non è possibile prima in qualche modo e noi abbiamo creato davvero tanti strumenti validi per farlo in maniera progressiva adatti veramente alla casalinga come all'azienda perché ci sono strumenti e prodotti nostri che costano pochissimo ci sono strumenti più completi per fare una campagna di un certo tipo per cui assolutamente bisogna passare in qualche modo la formazione informazione sull'argomento in cui in giro si trova poco e male perché ci sono le esperienze di chi ha fatto la sua campagna che sono magari delle bellissime esperienze ma sono limitate a quella categoria merceologica magari una persona era perfetta per fare una campagna di crowdfunding solo con una reputation specifica per cui ha creato qualcosa che funziona molto bene o che ha funzionato comunque bene ma il suo modello non è to cure replicabile da parte anche di altri progettisti invece il mio lavoro il lavoro del mio team da tanti anni è affrontare tante diverse campagne di crowdfunding qualcuna anche sopra i 6 milioni 200 mila euro qualcuna più piccola da 150 mila euro da 400 mila euro qualcuna anche da 50 non è lì il discorso il discorso è sulla differenziazione che c'è stato in questo numero di campagne che abbiamo seguito realizzato questo ci ha portato mi ha portato in particolar modo poi ha portato me a elaborare un modello elaborare un corso che è il corso che trovate sono facilmente guardando su questa pagina ma prima di rispondere alle domande ma che bello che ci sono un po di domande prima di rispondere alle domande vediamo quale sviscerano definitivamente il primo punto il primo punto è partire subito con la campagna senza saperne niente è un errore madornale cioè come andare sul ring con tyson soltanto perché si è o si pensa di essere grossi o aggressivi con la ti ammazza allora e questo era la primo il primo aspetto importante quindi delle cose da non fare poi allora francesco sì magari se mi fai delle domande relative al crowdfunding sono anche più contento francesco visto se fai altre domande che non c'entrano niente qua cristina balzari buonasera a te niccolò conte ciao alessandro io sono propenso ad adottare il modello reward based ma ho qualche dubbio sull'aspetto normativo non sono riuscito a capire quando questo viene considerato pre vendita e quando invece il reward è considerato come reward simbolico allora evidentemente nicolò tu non sei ancora mio studente non ancora sono nel corso avresti avuto modo di scoprirlo bene perdonatemi ancora a canna tra l'altro saluto giuseppe frustieri gli faccio anche gli auguri perché oggi come magari qualcuno di voi sa è la festa della marina militare per cui pale a pro ora per tutti allora la differenza principale nicolò da tenere presente per essere proprio inattaccabili la differenza tra il reward base in cui viene considerata una una donazione vera e propria no cioè fiscalmente una donazione senza incorrere una pre vendita quindi senza dover far fattura fondamentalmente la differenza è nel primo caso cioè prendi donazioni se il tuo progetto prodotto non è ancora stato realizzato prototipato o non definitivamente o dall'altra parte invece e dall'altra parte invece c'è se hai già un prodotto prototipato e magari vuoi andare in produzione allora a quel punto di una pre vendita e stacchi fatture come è giusto che sia nell'altro caso invece crowdfunding permette sotto forma di donazione di ricevere soldi per realizzare la tua invenzione ok questa è la grande differenza principale poi ovviamente nel corso ci sono tante cose spiegate che adesso per ovvietà in questa diretta che tra l'altro faccio ancora più limitatamente del solito durerà massimo una mezz'oretta ok se avete altre domande fatemene intanto il secondo punto il secondo punto importante della sul discorso delle peggiori campagne cioè quelle da da non fare è andare a fare una campagna molto sovradimensionata rispetto a quelle che sono le reali necessità della vostra campagna ovvero in qualche modo tentare di speculare grandemente sullo strumento crowdfunding noi ce ne accorgiamo già noi sostenitori quando fate una cosa di questo tipo ce ne accorgiamo e ce ne accorgiamo facilmente se andiamo invece a vedere proprio quei player devo dire di tutto il mondo ma soprattutto anglosassoni che so che vanno a raccogliere tanti milioni in reward ad esempio se andiamo a vedere sono proprio sono proprio quelle persone che avevano chiesto poco magari una cifra che poteva quasi sembrare inadeguata verso il basso per andare a realizzare il loro progetto quelli poi prendono molto di più perché sono andati a mettere una cifra bassa nonostante avevano lavorato benissimo di analisi magari si vedeva che era tutto estremamente elaborato da tutti i punti di vista grafico copy il video una community magari si può basarsi perché il risultato cioè il successo della campagna la campagna in over founding in poche ore è un importante elemento crea un grande effetto elastico e un grande effetto ristorante come definisco sempre no se vedo tre ristoranti nella stessa via uno è pieno uno è vuoto e l'altro a metà tendenzialmente cercherò di andare a mangiare in quello pieno magari facendo un po di fila per cui questo grande effetto elastico che sviluppa un progetto che raggiunge super al budget in poche ore è uno degli elementi chiave uno dei trick chiave che dobbiamo cercare di raggiungere per cui anzi che mettere un budget troppo elevato per una cosa che può essere considerata come una sovrastima da parte di noi che dobbiamo sostenere o aderire al progetto dall'altra parte invece la campagna di successo che cosa fa da chiedere un po meno di quello che pensa di poter raggiungere ma sempre una cifra sufficiente a terminare la lavorazione la prototipazione l'ideazione del progetto che vuole sviluppare grazie al crowdfunding così dopo aver fatto comunque tutti i passaggi che vanno fatti nel lavoro del pre si riesce ad avere ancora più effetto nicolò conte grazie chiederò la tua corsista rossana conti di passare il tema per bene perché nicolò e rossana giustamente voi siete sotto lo stesso tetto potete anche scambiarvi il corso dai va bene ok infatti non ti trovavo nicolò dicevo perché ho più o meno mai siete in tanti è con quasi 200 persone però mi mi ricordo i nomi praticamente di tutti questa o di quasi tutti e questa è una bella cosa gente giuseppe fusteri caspita col suo grandissimo progetto anzi io veramente mi aspetto giuseppe da te un colpo di reni perché addirittura parlato con con gente parlando del tuo progetto e sia apparenti che altri che non vediamo l'ora di poter finalmente degustare allora mi aspetto ancora le vostre domande e poi sicuramente continuiamo con quali sono le cose propri progetti peggiori e come mai sono diventati peggiori allora un altro elemento estremamente negativo peggiori le peggiori campagne graffane le peggiori no viste veramente di brutte avendo cominciato molto molto presto queste di brutte che purtroppo sono anche passate inosservate perché adesso sarebbero dei meme o anche in maniera un po indelicata verso il progettista dei momenti di grande irarità per tutti ma la cosa principale che nel passato sopra adesso un po di meno che nel passato si sbagliava era fare le campagne proprio senza i contenuti cioè nel senso magari l'idea era bellissima ma c'era la pagina progetto era un trattato di antropologia di 20 pagine tutto nella rigorosamente nella mappa mentale del progettista per cui secondo lui dove ti spiegava esclusivamente come mai secondo lui era il progetto più bello del mondo e della vita senza badare minimamente al minimo beneficio che i sostenitori avrebbero poi ricevuto no cosa che abbiamo visto completamente sbagliato nel marketing nella comunicazione tanto più e crowdfunding che proprio l'unione di economia e comunicazione quindi dove le motivazioni che dobbiamo dare sono molto forti dove abbiamo delle leve molto forti per cui 20 pagine di descrizione progetto tipo trattato di filosofia magari di antropologia nessuna nessun video o nessuna immagine ma io conosco un solo progetto che è riuscito a sfangarsela senza aver fatto un video era un progetto su produzioni dal basso di un sacco di anni fa progetto di dieci anni fa ma aveva già una community tostissima alle spalle quindi cioè tendenzialmente avrebbe anche semplicemente potuto scrivere ciao a tutti facciamo crowdfunding donate qui o sosteneteci da così francesco calandro io non so cosa dirti caro francesco tu mi segui sempre non sei il mio studente però tu dici punti a volere cifre alte e dici allora per cifre altre è impossibile che non fanno non è impossibile cioè io ho provato a raccogliere anche sei milioni e due è una cifra abbastanza alta conosco gente che ha raccolto moltissimo in crowdfunding su progetti anche singoli da solo senza staff ci sono progettisti negli stati uniti che hanno raccolto decine e decine di milioni di dollari in reward based crowdfunding continuano esserci società che con l'equity stanno facendo tantissimo che nuovi modelli sai volare alto non lo so da dove hai trovato insomma qual è il filone motivazionale dove trovi queste affermazioni io non ci credo tanto in questi atteggiamenti questi comportamenti secondo me il crowdfunding è proprio il contrario cioè costruire dal basso per riuscire a fare una cosa dove anche tutti gli altri possono avere dei dei benefici non è pensare a quanto voglio raccogliere anche perché guarda che poi dopo puoi raccogliere tutti i soldi che vuoi cioè non è difficile diventare ricco non credo che sia è più difficile fare altre cose è più difficile avere un'incidenza positiva nel mondo cosa che peraltro la ricchezza può anche aiutare ma vedo un po di povertà invece nel dire no io voglio partire voglio arrivare a fare un crowdfunding da svariati milioni tanto mi piacerebbe sapere qual è il tuo progetto vedi se tu mi dici io voglio le cifre alte ma non lo so vai a fare il narcotrafficante francia tu mi devi dire qual è il tuo progetto cosa vuoi fare io ti posso aiutare in quello se poi dopo decidi di diventare mio corsista vedrai che dentro c'è tanto anche del mindset che che ti serve per fare una campagna di crowdfunding però quello che cioè mi fa un po cadere le palle quando mi arriva una roba così non voglio offenderti però sono qua per aiutare e sono qua anche per dire con le cose un po come stanno ecco giuseppe frusteri grazie ai tuoi consigli al tuo corso siamo quasi pronti per una prima fase che probabilmente avrà lanciata settimana prossima giuseppe frusteri forza per il resto avremo sicuramente bisogno della tua esperienza e professionalità non smetteremo mai di dirti grazie allora giuseppe sono io che dico grazie a voi postate nel gruppo nel gruppo riservato ai miei corsisti gruppo segreto dell'academy perché qui lo dico e non lo nego tra poco appena siamo appena ho capito due tre cose di noi come gruppo dentro l'academy che ormai siamo dentro l'academy 130 persone circa a quel punto lì partiamo scegliamo un progetto dei vostri progetti uno dei vostri progetti e gli facciamo tutti assieme la campagna diventa la prima esercitazione fatta dentro nostro gruppo diventa la prima campagna di crowdfunding con 130 progettisti che spingono su uno lo so qualcuno potrebbe dire no ma scusami io ho preso il corso per fare il mio progetto bene però se ancora non l'hai fatto partire il tuo progetto ce n'è tanti è che hanno fatto partire proprio il progetto per adesso di quelli che l'hanno fatto partire si è stampato solo claudio claudio rotella che a cui vogliamo bene che è il più giovane di tutti noi però non mi ha dato retta e gli ho detto aspetta fai pre campagna fai tre campagne è voluto partire e comunque qualcosa raccolto non è non è andato a vuoto e credo che abbia imparato ancora più cose perché tante volte dagli schiafoni no si capiscono si capiscono più cose però è pronto di partire invece tutti gli altri progetti che sono partiti sono andati in porto ragazzi e non è male però adesso per chi ancora non l'ha fatto partire e della maggioranza che ancora non ha fatto partire la sua campagna facendo bene perché sta seguendo il corso il corso ti parla di mesi per fare le cose come giusto che sia a quel punto noi prendiamo un progetto e tutti assieme ci coordiniamo lo facciamo partire e vediamo e vedremo che arriveremo a dei risultati veramente veramente straordinari per quel progetto per cui farò io delle mie consultazioni parlerò con un po di gente e vedrò come fare claudio bernardi claudio bernardi non è il mio studente ancora però ci ci mancherà ci mancherebbe city bike allora come faccio a fare una campagna se sono un topo da officina se nessuno mi conosce voglio fare una campagna per la mia ma ad len city bike claudio pigiati sto corso adesso vediamo caro luigi anche se non sono partite le nostre notifiche siamo circa 24 persone che sono venute qua per cui ti direi di andare a vederti claudio bernardi e di mandargli il link o per avere video gratuiti o per avere il corso smart crowdfunding o per avere il libro sul crowdfunding anche 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 per avere il libro magari da qualche parte dovrà pur cominciare claudio luigi adesso ti manda tutto certo mimo costantiello che ho sentito per un grandissimo progetto molto bene mimo non ho fretta spero soltanto che non mi di non terminare diciamo gli slot disponibili perché noi volendo far bene le cose non non mi prendo più lavoro di quello che riusciamo a gestire noi siamo in tanti ma abbiamo tanti progetti e tantissima carne al fuoco quindi abbiamo proprio una necessità di fare le cose bene quindi avere il tempo massimo cruciani ciao massimo piacere di risentirti tu di rivedermi io vedo solo la tua foto con la cravatta azzurra se non sbaglio allora intanto aspetto ancora le le vostre eccole qua le vostre domande eccole qua francesco brasco per cui fatemi domande fatemi domande che è il modo migliore per capire velocemente le cose a noi di linea news appunto it basterebbero 60 70 mila l'anno per stare in piedi il resto servizi di ufficio stampa informazione locale con inchieste interviste approfondimenti su cultura economia amministrazione locale buone notizie costruttive su area vicenza e veneto c'è un sacco di corsisti io di di vicenza cioè di quella zona lì vicenza veneto anche di verona c'è anche una buona community con le quali collaboro spesso da quelle parti c'è tanta voglia di fare crowdfunding sfonderà la campagna grossa che ho fatto era in friuli ad esempio la campagna più grossa che ho fatto in rewar allora francesco tu stai pensando una cosa che alla quale io credo fortemente penso di capire delle tue parole cioè di utilizzare poi il crowdfunding come modello di business è assolutamente adatto va modificato magari non lo chiameremo più neanche crowdfunding sarà in qualche modo una sottoscrizione continua un abbonamento però ovviamente la forza dirompente che hai nel lanciare una campagna di crowdfunding non la puoi avere su quello che ad esempio nel settore dell'infoprodotto viene chiamato evergreen cioè un momento di vendita costante per intenderci io stesso quando è partito il corso l'ho lanciato creando un hype basata sul mio storico nel mondo dei crowdfunding è partito il corso ha fatto un x di vendite tutte assieme dopodiché siamo andati a metterlo a regime cioè come adesso in evergreen ok sempre dando tanti contenuti sempre dedicando molto tempo e tanta attenzione alle persone non solo a quelle che avevano acquistato il corso quelli vabbè sono proprio figli prediletti e poi però a tutti quelli che chiedono delle informazioni che vogliono avvicinarsi a questo mondo perché a me interessa più di tutto che ci siano tanti nuovi progetti che vanno in crowdfunding mi interessa più di qualunque altra cosa perché poi anche il mio il mio bene diciamo è conseguenziale a come si sviluppa lo scenario come si sviluppa il crowdfunding in assoluto soprattutto quello riservato alle esigenze delle persone che hanno bisogno anche di somme più piccole come voi per stare in piedi per cui Francesco senza indugio e lo diciamo anche a Luigi che c'è Francesco Brasco a questo punto anche lui sarebbe da mandargli un messaggio qualcosa dove gli si fa vedere anche quali sono tutte le nostre offerte commerciali cioè diciamolo chiaramente noi abbiamo tutto un parterre di offerte commerciali che vanno dal libro fino a dei corsi smart a dei webinar e poi arrivando anche fino al corso completo operativo sul crowdfunding o alla consulenza one to one poi ci sono altri passaggi operativi perché deve fare cose un po speciali però intanto è il caso di approfondire prima un'altra cosa una notazione commerciale mia è una roba che privatamente dico sempre pubblicamente forse ancora non l'ho detta però lo posso benissimo dire perché è una agevolazione che diamo a tutti quando uno decide di entrare nel nostro nel nostro sistema quindi di decide di fare i crowdfunding andare a realizzare i suoi progetti attraverso il crowdfunding noi gli proponiamo diversi prodotti adatti sia a tutte le tasche che anche a tutte le esigenze adesso sto andando a prendere questo link questo ve lo metto io direttamente è il link dove ci sono tutte le tutte le pagine eccola qua è la baccheca dei nostri prodotti ora ve la sto mettendo ma quello che volevo dirvi è che se uno decide dopo aver preso un prodotto magari anche piccolo di prenderne un altro noi gli scontiamo il che il costo del del prodotto precedente questa è una cosa che non fanno tutti vi metto anche questo eccolo qua vedi che lui già messo il corso e anche il libro bravo luigi maurizio matteucci certamente mio corsista essendo un figlio prediletto perché hanno ricevuto nessuna risposta le mie tre mail inviate su due indirizzi che ci ha indicato maurizio matteucci fammi vedere tu mi ingaggi così io vado a vedere tieni presente maurizio che noi riceviamo qualche centinaio di mail per cui vediamo subito maurizio matteucci richiesta di supporto terzo tentativo maurizio mi autorizzi a leggere quello che mi hai scritto mi autorizzi a leggere quello che mi hai scritto così ti rispondo adesso in diretta attendo tua risposta noi qui i panni sporchi li abbiamo in pubblico contrariamente a come fanno tutti anche un momento di una certa intensità vediamo cosa mi risponde maurizio matteucci tra un po' scatta il silenzio assenso o non so se è il caso vedi tu leggo la tua mail o ci sono segreti dentro vincenzo buon fissuto quanto quando pubblichi le date per il one to one giusto bella domanda nei prossimi giorni penso entro questa settimana come avevo preannunciato però vincenzo tu ti sei già finito il corso io il consiglio che do è di finirsi il corso prima di spararsi la one to one perché perché qualsiasi cosa vi dico nella one to one dopo che sei arrivato con 22 ore di lezioni operative sul crowdfunding in pancia tua è molto meglio che invece partire subito a me fa piacere a me non cambia niente perché in realtà mi cambia perché so che posso essere più efficace su di voi semplicemente su questa cosa però vedo che Maurizio neanche tu però mi rispondi quindi siamo pari diciamo ti risponderemo probabilmente tu avevi iscritto a campagna crowdfunding inizialmente io l'ho trovata mi è stata inoltrata da campagna che siamo sempre noi è un altro prodotto nostro vabbè poteva essere carino risponderti adesso però ti risponderò magari domani per cui Vincenzo quello che dicevo adesso escono ha risposto di sì Maurizio ma non lo vedo Luca Brugnoli fammi controllare ah sì ha risposto di sì l'ho vista adesso ok Matteo allora domanda e risposta in diretta vedete fantastico buon fissuto tu intanto studiati che poi escono però se tu l'hai appena preso il corso ti sconsiglio di farti la one to one adesso al primo giro lascia sedimentare un attimo questa è una cosa che è una pratica il crowdfunding dove chi ha fretta buonasera Alessandro sei durante le live dell'accademia che segui qualche progetto degli allievi del corso potrai gentilmente ricevere informazioni su come procedere per poter avere anch'io questa possibilità ho già ascoltato tutto il corso una prima volta l'ho ricominciato di nuovo bene stavolta iniziando a sviluppare i punti del percorso su trello molto bene non ho ancora fissato l'ora di col con te perché l'unica possibilità che ho di aiuto diretto da parte tua vorrei ottimizzarla decisione saggia ho un paio di progetti da mettere in pista già iniziati di cui uno sul turismo nell'area dei Sibillini scenario dell'ultimo terremoto qui ho una piccola struttura ricettiva a casa e vacanza che vorrei utilizzare per promuovere il modello crowdfunding mostrandone le possibilità a tutte le strutture simili alla mia sul territorio non è il mio mestiere anche se rientra nelle corde di un imprenditore questo per dare un esempio concreto a tutte le realtà del luogo che languiscono in attesa di utili da parte dello Stato che non arriveranno mai arriveranno troppo tardi vedere spegnarsi un territorio che è in gran parte parco nazionale dei Sibillini così pieno di bellezze traduzioni cultura non gastronomica artigianato mi fa veramente male a me ha sempre dato molto e voglio fare quello che posso per dare al mondo l'opportunità di vivere una piacevole vacanza in questo incantevole territorio restituire ai suoi abitanti la possibilità di rimanerci e lavorarci dignitosamente come accade da altre parti voglio aiutarmi nell'impresa ne sarei felice io lo farò comunque i reuars io e i miei colleghi li abbiamo già pronti e il rischio di non consegnarli è zero su giorni vacanza poter sciogliere il vincolo dalle OTA che detengono il monopolio delle prenotazioni con l'aiuto dei crofani sarebbe per gli operatori di quest'area un primo grande traguardo per i servizi e attività non credo di avere grandi difficoltà di organizzare sono un appassionato di gastronomia da molti anni nonché conoscitore di cantine e le fiche nella regione attesa di un tuo cortese riscontro mi saluta ok allora Maurizio c'è una sarei scemo a non dirti che c'è una grande criticità la grande criticità è che tu di fatto stai facendo un'operazione prevalentemente di pre vendita diciamo di prenotazione di una vacanza in un posto ci sono poi tu rispondi mi hai per iscritto dico qua mentre ti sto rispondendo io allora ci sono due elementi uno è è un problema che hanno tanti che dicono io ho una casa enorme a pezzi però la devo ristrutturare e poi se la gente mi aiuta a ristrutturarla in cambio gli do dei soggiorni in vacanza grande problema lasciando stare il momento particolare in cui tutti quanti versiamo grande problema è che uno generalmente in internet o sta facendo un investimento e allora può aspettare x mesi o sta prendendo un oggetto allora aspetta che ci sarà ma una cosa come le vacanze è un attimino più complicato nel senso ci sono esempi andati a buon fine bisogna però strategizzarla ad arte bisogna caricarla di tutti quei valori che però vedo che anche tu esprimi nella tua mail ma bisogna caricarli caricare bene qua il lavoro di strategia è importante quello che tu vuoi fare per te in relazione a quello che vuoi fare per gli altri è incommiabile a patto che tu lo metta già in gioco anche per gli altri perché se lo fai solo per la tua mi vale un po' meno come opera di bene per tutto per tutto l'ecosistema dovresti tra virgolette consorziarti con quelli che da un certo punto di vista potrebbero essere i tuoi competitor della zona ma in realtà non lo sono perché sono gli abitanti del tuo territorio per cui con loro assieme dovreste lavorare sulla strategia di una campagna per riqualificare far rivivere riqualificare non è il termine corretto far rivivere un posto che invece si sta spegnendo e allora lì sì che aumenta la capacità aumenta l'impatto aumenta la community che si può mettere intorno farlo da solo è un attimino più faticoso ecco bisogna sempre cercare in queste cose di capire quando quanto possiamo condividere e che risultato ci può dare questa condivisione anche in termini poi propri monetari diciamo è meglio avere una fetta di una torta molto sostanziosa che l'interezza di una torta molto piccola ok vedi hai già Francesco Brasco che gli piace la zona ha la sua in perfette condizioni e comunque lavora il mio sarebbe un progetto pilota per trasferire poi al territorio allora secondo me Maurizio dovresti fartela subito con ma allora probabilmente siamo pronti a fare la call one to one Maurizio ecco siamo pronti a fare la call one to one per cui io adesso quando anzi facciamo facciamo un paio di cose allora ce la spariamo così ragazzi martedì 16 facciamo le one to one adesso in diretta tanto ormai questa puntata qui è proprio in famiglia le one to one le facciamo giovedì 16 adesso vado sulla pagina e pubblico gli orari per cui andatemi appena finisco qui tra pochi minuti andate sulla ritornate qui sulla pagina riaggiornatela dopo che è finita la diretta e facciamo le one to one Maurizio one to one secca così parliamo Rossana Conte sta aspettando te per la one to one ma benissimo Rossana benissimo adesso le pubblico andate nel gruppo dai lo facciamo in diretta via dai basta così vi posso mettere il link direttamente ecco qua allora allora lo facciamo in diretta facciamo questa e poi vi saluto mi raccomando mi raccomando non prenotatevi in due nella stessa oraria se poi me lo fate sempre e dico ma perché benissimo pubblicato allora pubblicato Nicolò Nicolò Conte parlavo con mio figlio Alessandro Rossana Nicolò ma cosa state combinando allora aspetta che apro di qua in un altro pannello così vi metto il link qui e non abbiamo più scusa adesso lo dico anche a Luigi sto pubblicando qua adesso subito nella conversazione sotto la diretta il link della crowdfunding academy per andare a vedersi per andare a prenotarsi la one to one ovviamente chi non è tra i corsisti quindi chi non ha diritto la one to one non lo vedrà neanche questo link non gli sarà concesso di entrare però gli altri sì per cui niente facciamo partire poi insomma il post e le altre cose noi facciamo tutta la luce del sole ragazzi bello Luigi e buona serata allora crowdfunding academy eccoci qua ecco qua il post eccolo qua vediamo se sono riuscito a fare il numero sì allora ve lo metto qua ecco fatto siamo pronti per fare 1 2 3 4 5 slot mi sparo 5 slot di one to one martedì 16 vi aspetto con gioia nel gruppo allora abbiamo altre domande? abbiamo altre domande ragazzi? no non abbiamo altre domande ok ragazzi vado che oggi è una giornatina per cui qui c'è almeno tre persone che dovrebbero prendersi la one to one io sarò ben contento il 16 di dedicarmi proprio a ragionamenti sul vostro progetto le peggiori campagne di crowdfunding abbiamo visto cosa fanno fanno degli errori che fanno tanti e che le fanno anche spesso errori grossolani ma non troppo errori che non ci sono che non consentono poi di recuperare sono soprattutto sono gli errori che vengono fatti in fase di in fase di strategia è come tirare un po' la freccia al bersaglio se in quel momento lì ho delle cose in mano che non van bene o sbaglio di poco quando la freccia arriverà al bersaglio se arriverà al bersaglio sarà spostata di tanto perché un errore di un millimetro in fase di strategia diventa un errore molto più grande in fase di esecuzione per non parlare poi del risultato francesco che mi scrive ancora a quanto capisco sono negato per il crowdfunding per la mia idea di realizzare no francesco però tu mi parli solo di quanto vuoi raccogliere che vuoi raccogliere che punti in alto ma non mi dici niente della tua idea quindi qui è il contrario qui io raccolgo in funzione a quante persone condividono la mia idea a quante persone trovano congruenza emozionale congruenza valoriale congruenza operativa con e sinergia col mio progetto con quello che propongo per quello ogni progetto deve avere una carica disruptive di un certo tipo deve realizzare qualcosa che senza che lo fanno non si potrebbe realizzare e ogni progettista deve avere grande umiltà e consegnarsi al mercato facendo ovviamente e noi nel corso lo vediamo passo passo facendo di tutto per rafforzare la sua reputazione per crearla acquisendo nuove conoscenze dimenticandosi altre cose che con il crowdfunding non c'entrano niente con questa modalità della sharing economy non c'entrano niente per cui vi aspetto nella prossima diretta che sarà verosimilmente settimana prossima probabilmente mercoledì credo ancora comunque ve lo comunicheremo e poi diventerà finalmente un nostro appuntamento fisso vi mando un grande abbraccio e che il crowdfunding sia con voi e che i Grazie a tutti.